Si è riscontrato problemi riguardo al controller che non funziona su God of War Ragnarok è possibile risolvere il problema attraverso Andiamo un attimo su controller, vai a scrivere qua sopra controller configura dispositivi di gioco USB Ovviamente non abbiamo nessuna periferica di gioco collegata quindi in questo caso se vado su periferica preferita non c'è nessuna periferica Ovviamente se adesso vado un attimo a collegare il controller anche se connetti il tuo controller ma sul gioco non funziona È probabile quindi possiamo risolvere tutto attraverso il sistema quindi periferica preferita e inserisco così il mio controller USB controller attraverso wireless non è USB E facciamo ok se vai su proprietà qua puoi gestire e vedere se il controller funziona perfettamente quindi l'analogico e tutti i tasti vanno più che bene Quindi questo qua era per fare un'analisi e vedere se il controller funziona perfettamente con tutti i tasti Una volta inserita così la periferica Se hai problemi tasto destro su start qua sopra gestione dispositivi Periferica Xbox 360 Il sistema me lo rileva come una periferica Xbox è un controller WFAN che è veramente un ottimo controller wireless Tasso destro sopra aggiorna driver Cerca i driver nel computer Scegli da un elenco di driver disponibili Inserisco così driver disponibile che sta qua sopra quindi most hardware compatibile Faccio avanti e installo così il driver Poi una volta installato devi riavviare il computer Devi riavviare il computer e facciamo no Ovviamente se stai usando un controllo della Playstation 4 o Playstation 5 ci sono i programmi DualShock DualShock quindi 4 Windows Il driver e poi c'è quello di PlayStation Accessories che sarebbe il firmware Ovviamente in descrizione ti ho lasciato così due link del DualShock e di PlayStation Iniziamo prima con il DualShock È un pacchetto rare che devi estrarre e ti uscirà così la cartella Entri nella cartella clicca su DualShock Windows.exe ed eccolo qua E qua puoi connettere il tuo controller Attraverso il cavo oppure Bluetooth Ovviamente a me non mi rileva nessun controller Playstation perché non ho un controller della Playstation Puoi usare anche l'altra applicazione che sta su questo sito PlayStation Accessories Quindi vado a scrivere PlayStation Accessories Ed eccolo qua Usi il cavo LAN Usi un cavo USB Quindi un cavo USB Quindi un cavo USB oppure Bluetooth Ed eccolo qua Se è connesso il cavo USB Disconnettilo Assicurati che la spia e giocatore sul controllo sia spetta Se è accesa tieni premuto il tasto PlayStation Quello centrale Fino a quando non si spegne Apri le impostazioni Bluetooth Ed eccoli qua Bluetooth e dispositivi Centro fino a giù fino a trovare così il mio controller Ed eccolo qua Xbox 360 Se è connesso al tuo computer Rimuovi il tuo controller L'emozione del dispositivo Chiudo un attimo qua Apri le impostazioni Bluetooth Ed eccolo qua Disconnetto così la chiavetta Riconnetto la chiavetta Ed ecco che si connette al computer Senza nessun problema Quindi usa sempre questi metodi Su tutti i giochi Che funzionano sempre E non ho mai problemi con il controller Su moltissimi giochi Quindi in questo caso Grazie a tutti per questa visione Ovviamente se hai problemi Commenta sotto al video E noi ragazzi Ci vediamo ad un prossimo tutorial Ciao